Il Sagrantino di Montefalco compie 30 anni di denominazione di origine controllata e si prepara a festeggiarli con un evento ad hoc. Si chiama Enologica 30 e quest'anno sostituirà il tradizionale appuntamento con la settimana enologica. Degustazioni, convegni tecnici, educazione e cultura del vino e arte saranno gli ingredienti di un weekend in cui il Sagrantino sarà protagonista in contrastato. Dal 17 al 20 di settembre si terrà Montefalco Enologica 30, un nome nuovo e un'iniziativa nuova per far conoscere i 30 anni di Sagrantino a Montefalco. Ci saranno moltissimi eventi, il punto centrale sarà sicuramente il Sagrantino e il vino di Montefalco e i produttori di Montefalco, ma ci sarà tanta cultura e arte del vino. Il banco unico d'assaggio previsto presso il Chiostro di Sant'Agostino sarà l'apertura ufficiale della Enologica 30. La novità di quest'edizione 2009 sarà data però soprattutto dall'incontro tra il vino e l'arte, in particolare il futurismo, che si affianca al pregiato vino Montefalchese con il quale condivide i festeggiamenti per un'altra importante ricorrenza, i 100 anni. Due mondi che si incontreranno nella realizzazione da parte di qualificati chef di tutte quelle specialità gastronomiche pensate in vista di questo importante evento. Il legame tra il futurismo e Enologica 30 è proprio il piatto e il cibo. Il cibo fa da liaison in un contesto di enoturismo in cui il piatto futurista diventa il legame che appunto lega il nostro grande vino di Montefalco con i piatti inventati dai nostri chef. Il piatto futurista appunto nella forma ma anche nel concetto.